Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. È davvero difficile non rimanere sul caso della povera Sharon Verzeni che ha perso la vita per mano di un disgraziato africano. Io lo chiamerò sempre africano perché tale è... Ecco, lei ha perso la vita senza un motivo, senza alcun motivo. E guardate che tutto questo non è assolutamente casuale. Andando a vedere, a rivedere la storia di Moussa Sangaré, questo ragazzo ivoriano che era arrivato in provincia di Bergamo, a Suizio, abita la sua famiglia, la madre fa la cuoca. Con la madre e con la sorella ha sempre avuto un rapporto molto molto conflittuale, talvolta anche di atteggiamenti pericolosi da parte di Moussa Sangaré. Ecco, stavo dicendo, non è casuale il percorso di questo ragazzo che lo porta ad uccidere come lui stesso ha ammesso senza alcuna ragione un essere umano. Perché è proprio il poco valore che questi soggetti danno alla vita. E la sua frequentazione del mondo rap non è un qualcosa casuale che non ha poi inciso sul suo modo di essere. Perché se noi andiamo a vedere questo mondo senza voler per carità fare in tutto nero un fascio, perché poi ci sono dei musicisti, dei rapper in gamba che sono assolutamente delle brave persone, ma purtroppo troppi, molti, molti, molti invece sono ragazzi drogati, sono ragazzi violenti, ragazzi che pensano che tutto gli è dovuto o gli dovrebbe essere dovuto e soprattutto quello che si evince in questo caso dove la vita umana ha poco valore. Perché altrimenti, vedete, uno non si troverebbe mai di fronte alla situazione di decidere io uccido una persona così senza una motivazione. A patto che sia questo il motivo, no? Perché io qualche dubbio ce l'ho ed è di questo anche che vi voglio parlare. Perché quando uno esce di casa con quattro coltelli e a casa ha un tiro a segno, voi capite che la cosa non è proprio un raptus come dice il furbacchione, no? Perché adesso probabilmente l'avvocato sinistroso che subito lo avrà difeso gli avrà subito suggerito questa cosa, no? Di dire immediatamente che ha avuto questo raptus nei particolari che non si ricorda, che gli dispiace, che non sa perché ha fatto tutto ciò. Ecco, questa è poi la strategia per arrivare ad avere una condanna molto più lieve. e staremo a vedere cosa succederà. Purtroppo abbiamo avuto tanti esempi di questo. Tra l'altro mi fanno ridere le obiezioni dei sinistrosi che hanno scritto. Il mio è ovviamente un canale libero, molti hanno visto il video, oltre 10.000 le visualizzazioni e queste persone si sono soffermati sul fatto che ci sono molti, molti italiani che commettono delitti e quindi di cosa parliamo. Qualcuno, come tra l'altro ho avuto modo di dire ieri sera la deputata Zanella, che ha preso un colossale abbaglio perché qui non c'entra nulla il femminicidio, perché in un femminicidio c'è una cosa che accomuna tutti i delitti. La conoscenza perfetta tra vittima e carnefice. Di solito è l'amante, è il marito, è l'uomo rifiutato e così via. Comunque è un soggetto familiare. Qui i due assolutamente non si conoscevano, quindi veramente una farloccata aver associato questo crimine ai femminicidi dicendo che gli italiani in maggioranza commettono questo tipo di crimine. Cosa vera, ma appunto i femminicidi. Rimaniamo invece su questa tipologia di crimine. Io so che la sinistra non farà piacere il dato che sto per dare, ma basta andare a vedere le statistiche e verrà totalmente confermato che oltre il 90% di questo tipo di delitto, ripeto, il tipo di delitto commesso da Musta Sangaré nei confronti di Sharon Verzeni, ecco, questo tipo di delitto vede protagonisti a oltre il 90% il continente africano. Può piacere, non piacere, è purtroppo un dato di fatto. Che non vuol dire che tutti gli africani sono degli assassini, dei delinquenti, si fanno prendere da Raptus o quant'altro. Assolutamente no, perché ci sono assolutamente dei ragazzi che provengono da quel continente, che si danno da fare, che studiano, che vogliono lavorare, che vogliono inserirsi nella società e così via. Però, ripeto, statisticamente, anche andando a vedere, basta che andate con la memoria indietro a vedere tutti i delitti degli ultimi anni, protagonisti sono questi soggetti provenienti, purtroppo, da quel continente. E quindi, in ultima analisi, è inutile che ancora una volta la sinistra voglia strumentalizzare questa circostanza e quello che è triste, estremamente triste, ancora una volta, non è la prima volta, voi avete letto da parte di questi sinistrosi una riga nei confronti dei genitori, il cordoglio nei confronti della pietà umana e quando... Zero, zero, zero. Questo è il loro comportamento, perché ora l'unica cosa che conta è, appunto, strumentalizzare la situazione che si è creata. Ripeto, chiudendo questo video, io ho la mia convinzione, è mia, ne possiamo discutere, ognuno può avere la propria idea che la frequentazione di quel mondo, lui tra l'altro ha collaborato anche con rapper piuttosto conosciuti, la frequentazione di quel mondo ha favorito questo modo di comportarsi, quello di ritenere che la vita umana abbia così poco valore, perché questo ovviamente c'entra, perché uno che ama il prossimo, uno che dà un grande valore alla vita umana, non commette quei simili reati. Tra l'altro, adesso mi viene in mente un'altra cosa, se voi vi ricordate, negli Stati Uniti, quando, ad esempio, un bianco uccide un nero, la primissima cosa che si mette in evidenza è il fatto del razzismo, giusto o no? Siete d'accordo con me? Ecco, io non capisco perché in questi casi non avviene mai, perché chi ci dice, ripeto, una mia, così, sto parlando a voce alta, una mia idea, che lui avesse proprio la volontà, perché ha magari un odio nei confronti della razza bianca e in particolare delle donne, non abbia volutamente premeditato questo crimine. E, insomma, qualche elemento ce lo dice il fatto che è uscito di casa con quattro coltelli. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.